Etty Illesum nacque il 15 gennaio del 1914 in Olanda e morì ad Auschwitz insieme a tutta la sua famiglia. Proveniva dalla buona borghesia ebraica olandese. Sin da giovane Etty Illesum era destinata ad una carriera letteraria, ma forse se non ci fosse stata la guerra non sarebbe diventata una delle personalità più importanti del Novecento. Con l'invasione nazista dell'Europa la politica antisemita travolse Etty e la sua famiglia e lei non riuscì ad evitare la deportazione. Tuttavia i diari e le lettere che scrisse, che noi possiamo oggi rileggere da Adelphi in una edizione integrale, rappresentano una chiave di volta non soltanto per capire il XX secolo, ma anche per capire una delle forme dell'etica contemporanea. Chissà, forse Etty Illesum avrebbe potuto salvarsi, perché peraltro era iscritta al Consiglio ebraico, ma lei decise di seguire i genitori fino ad Auschwitz e soprattutto nel campo di smistamento di Westerbock decise di essere, come lei scrisse, il cuore pulsante della baracca, con una espressione ormai divenuta proverbiale. Paradossalmente proprio nel campo di concentramento Etty Illesum conquistò la fede e lo scrisse più volte anche con una forte risonanza evangelica. Vorrei vivere con la leggerezza e la semplicità dei gigli nei campi e non si stancò mai di ringraziare Dio per tutto quello che aveva ricevuto, anche in quel momento terribile, cruciale del Lager.